Fondato soltanto nel 2020, lo studio Gunzilla Games ha recentemente annunciato che il prossimo anno immetterà sul mercato un Battle Royale sviluppato in Unreal Engine 5 e caratterizzato da un forte focus sulla narrazione. Prima di proseguire con il video e scoprire tutti i dettagli finora divulgati su Off The Grid, però, vi invitiamo come sempre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche, così da non perdervi nessun nuovo contenuto di Avriai.it. Atteso su Xbox Series X, S, PlayStation 5 e PC nel corso del 2023, l'ambizioso tripla A di Gunzilla Games è ambientato in un futuro distopico, e stando a quanto affermato dal team, lo sparatutto in stile Cyberpunk mira a far evolvere il genere offrendo una maggiore enfasi sulla componente narrativa. Per poter conseguire tale obiettivo, lo sviluppatore ha affidato l'incarico di plasmare il mondo di Off The Grid a un trio di talenti di altissimo livello. Nel progetto sono stati infatti coinvolti Neil Blomkamp, regista e sceneggiatore noto principalmente per District 9, Richard K. Morgan, apprezzato autore di fantasy e opere di fantascienza distopica quali Altered Carbon, e il veterano dell'industria videoludica Olivier Henry, che dopo aver lavorato a serie del calibro di Far Cry e Assassin's Creed, ricoprirà a questo giro il ruolo di direttore narrativo-esecutivo. Nonostante Gunzilla Games non abbia voluto fornirci alcuna informazione aggiuntiva sull'intreccio, una direzione artistica tanto illustre dovrebbe insomma garantire al prodotto e ai fan del genere un'ambientazione intrigante ed elaborata. Per quel che concerne invece la componente ludica di quello che il team di sviluppo descrive come un battle royale impareggiabile? Abbiamo appreso innanzitutto che Off The Grid permetterà all'esorbitante numero di 150 giocatori di affrontarsi in schermaglie PvP o in alternativa di cimentarsi nelle attività PvE previste dalle missioni di storia, che a quanto pare saranno ambientate in vaste mappe condivise e popolate in tempo reale da parecchi altri utenti. Non solo i giocatori avranno la totale libertà di controllare e alterare lo sviluppo della vicenda, ma le decisioni prese da ogni singolo utente avranno un impatto diretto e immediato sul gameplay di tutti gli altri partecipanti. A tal proposito, lo stesso Neil Blomkamp ha dichiarato che Godzilla Games non intende soltanto plasmare una sorta di battle royale 2.0 contraddistinto da una profonda progressione del giocatore, ma anche un mondo in continua evoluzione, nonché progettato per assumere una vita propria e mutare sotto molteplici aspetti ogni qualvolta un utente vi faccia ritorno. Adottando un approccio narrativo innovativo e attribuendo uno scopo a ciascun elemento del titolo, il mondo di Off the Grid si assicurerà pertanto di offrire sempre qualcosa di nuovo a coloro che lo visiteranno ripetutamente. Oltre a specificare che in Off the Grid i confini tra eroe e cattivo si confonderanno, il comunicato stampa diramato dallo studio ha infine menzionato la presenza di meccaniche legate al crafting, tant'è che gli utenti potranno creare, personalizzare e scambiare tra di loro i propri oggetti, e dar vita ad una sorta di commercio all'interno del gioco. Augurandoci che Godzilla Games ci offra quanto prima un sostanzioso assaggio del gameplay e della componente narrativa di Off the Grid, la parola passa come sempre a voi. Che ve ne pare di questo ambizioso battle royale realizzato in Unreal Engine 5? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso lo spazio dedicato ai commenti e non dimenticatevi di lasciare un like qualora abbiate apprezzato il nostro video.